2, 1, vai, 30, sinistra 2, scivola, 40, destra 3, suddosso, scivola, 40, piega destra lunga, e al palo ritarda sinistra 3, chiude, sinistra 3, chiude, in destra 3, apre 5 lunga, vai 50, e attenzione stacca sconnesso, sinistra 2, 150, tieni sinistra, in destra 4, e occhio a Rayl in uscita, in sinistra 3, in destra 4, apre, 20, destra 5, 20, e stacca e ritarda destra 2, stacca e ritarda destra 2, piega sinistra lunga lunga e chiude poco, a fine Rayl, chiude 2, chiude 2, per destra 3, apre, 50, e stacca sinistra 2, 200, al cartello, destra 5 lunga 2, tempi, vai Mario